mister come li vedi questi ragazzi c'ha un voglia c'ha un voglia conta più quello che c'ha un voglia carici fenomeni dai allora casaia lo possiede casaia boys nessun fenomeno ma tanta voglia allora guardateli sono in tre più l'allenatore quattro il campo in condizioni proibitive piove da giorni che la casaia da giorni da giorni è più romanzesco domenica pomeriggio domenica pomeriggio sono andato al tere ragazzi ero pesca in mezzo all'acqua proprio durante con gli stivali a coscia a un certo punto non scroscio fatto mai tutta la macchina non ti me l'ho ardotta ragazzi perché adesso ho fatto una porta pulirico ascolta fammi un buon lavoro gli do da fata del discurso vai parti